Questa lunga e anomala estate di avvicinamento al fischio di inizio dei campionati dilettantistici previsto per fine settembre è in continua evoluzione con FIGC, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale Veneto impegnati in un dialogo continuo con le società. Fra i presidenti dell'area nord è emersa la forte volontà di una sostanziale modifica dell'attuale protocollo FIGC per la ripresa dell'attività calcistica giovanile e dilettantistica, il tutto in totale sicurezza. Si ritiene necessario ripartire con l'attività sportiva anche per sperimentare e collaudare i comportamenti da tenere nella malaugurata ipotesi in cui il Covid-19 dovesse permanere anche nei prossimi mesi. Intanto sono iniziate le consultazioni da parte del Comitato Regionale Veneto con i club dei vari campionati regionali per un confronto aperto sulla composizione dei prossimi gironi. In queste prime videoconferenze emerge una forte volontà di avere gironi da 18 squadre. Si valuta per l'eccellenza anche la possibilità di non disputare i play-off per garantire il rispetto delle tempistiche e delle scadenze.